La canzone è quella cosa piccola che ti fa andare in giro un po', che sembra che c'è il vento, che quando non c'è. La canzone è quella che ti fa andare in giro. Non mi sono mai chiesta perché, me lo chiedono gli altri. Il gattino ha un significato, vero? Perché? No, chiedo a te perché. Niente, ho detto che i toffoli sono degli animaletti che si aggirano per le città d'Italia e a volte vanno a cantare nei palasport dove c'è il malto, il verbero. Perché alla fine si torna da dove si è venuto. Di dove si è venuti? Dall'inglese? Da Monfalcone. Da Monfalcone, dove si parla inglese fluentemente. No, 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 voglio andare a New York. Poi tanti miei amici che vivono, lui mi dicono che sono pazza. Così proprio, ah, lontanissimo. E la mucca? Tenevo l'arrivo. La mucca si spaventava. La mucca, terrorizzata, correva velocissimo a casa. Qui dentro questo corpicino c'è un altro. Eccola là. Lo sapevo e non beve. Non è che dice, sai, è proprio così. Sono così. Ciao. È bello però, è bello. Prego. Lo fa bene, sta quasi nitrendo. Adesso mi riprendo. Oddio. No, 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 ridiamo più. No, no, io... Non lo so, comunque... Ma... Attenzione perché quando loro due cominciano a ridere è finita. Ma come è fatto? Io, guarda... No, 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 ma... Laura, io non so a tu come hai fatto perché... Ok, io gestisco... No, 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 no... No, no, non ti va di... Com'è, com'è, scusa, com'è? Oh, oh... Ti prego, no... La vera star proprio del web è il gattino. È il gattino. A loro piace molto la cioccolata. E il latte. Sì, è il latte. Buongiorno, sono Caterina. Siete molto carini. È un quacervo di emozioni. C'è una sinergia che si deve creare. Perché una collaborazione... Ah, perché è dietro le quinte... Alberto. C'è Alberto? 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 Siete molto carini. Che carini. Siamo proprio carini. Siccome sono un genio della proporzione, ho detto pochi giorni fa... Sì. Ma quando andrai in tour, io... Presto! Come si fa? No! Non è un po' gustavo zitto. No! Invece è così bello! Esibizioni. Misogna e Cher invece... Questo è duro, ecco sì. Sì, infatti ho visto. Vediamo...